Questa cosa volevo dire, tra colline e montagne non c'è un cazzo da fare, quindi a parte queste e l'esperienza in ogni caso, un breaker non può dimenticare quello che questo ha fatto in tutta la sua vita e un Faust in questo tipo di posti non può fare altro che praticamente ballare, alla massima potenza, allenarsi, meno male che ci sono loro, bella Toven, ti voglio bene, preparati perché sto per arrivare, sto tornando e ti assicuro che sarà veramente fighissimo, ok, yeah, per la crew Electro Force. Hey man, yeah man, ok, look at him. Ehi Cristo, adesso si, che bevete, nicchia cazzo nico, che cazzo voglio dire, non vedo ragazzo di tornare a ballare con te e con l'altro, mamma mia pure me cinque ore mi impassano e mi avanzano, bella frate, bella, non mollo mai, va avanti eh, mannaggia, la paura, la paura, io ho paura, la parola, la non v'azdraga. Ehi cazzo, che cazzo? Ehi frate, quanto veri sta rumma mamma mia perché il giorno E' successa una cosa assurda I sorti, ma c'è, ma c'è Guarda, sono sincero, guarda, è difficile uccidere un Fausto Ma veramente, guarda, cioè io devo veramente essere distrutto dagli alieni, guarda, non lo so, guarda Ma distruggere me stesso è veramente una cosa assurda Gli riempiamo il culo a tutto il mondo, gli facciamo vedere di che peste siamo fatti Ma veramente, guarda, cioè io devo veramente essere distrutto dagli alieni, guarda, non lo so, guarda Ma distruggere me stesso è veramente una cosa assurda Gli riempiamo il culo a tutto il mondo, gli facciamo vedere di che peste siamo fatti Te faccio sapere, dai, te faccio sapere, la voglio Comunque sì, 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 pia, no, armi e ritagli e vieni Quindi, secondo me si può fare Comunque è un breakdance forever Che cazzo? Che cazzo? Aiuto, devo fare questo cazzo di video, rompiamo il culo e ti assicuro che non video lo so, ok? Ve lo assicuro, ok? Fausto non mente, ve lo giuro Inizia a crescere di venire qua, o se no vieni tu qui un attimino Cioè facciamo questo cazzo di video e poi, che è importante, cioè la direzione e tutto il resto, cioè ragazzi, cioè Certo che, guarda, ve lo dico, ho bisogno di fratelli mie Io io le chiedo, poi sembreranno bene, se no facciamo come dici tu, ok? Ci sto bra, facciamo così, ci sto bene Beh, datemi una mano, cioè, contattatemi, cioè, mi sto allenando con due Che cazzo, che cazzo, è ok, ok, non fate, che cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo Si, 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 si può fare, si è divertivo, andiamo nei posti figli, si Che si potessero, io ballerò per tutta la vita, fino a che il respiro non mi mancherà mai Guarda, fino a che il respiro non mi manca, voglio dire Ah, dimenticavo, ok, che cazzo, ok, voglio dire, ok, ok, Cristo Mo' gli fa un motore, guarda, mo' gli fa un motore, veramente Ok, ok Grazie